Due parole anche sulla Fiorentina, c'è il nodo portiere ancora da sciogliere. La Fiorentina io credo che quest'anno siano partiti troppo in pompa magna, facciamo, breghiamo, vinciamo, bisogna stare con i piedi a terra. I fiorentini sono un popolo generoso, un popolo istintivo, un popolo che si infiamma come la paglia, prende subito fuoco, però subisce anche le coscienti delusioni e dopo si hanno delle reazioni magari spropositate e negativo. Quindi bisogna andare con i piedi di piombo. Avere confermato Montella io credo che sia un punto base importantissimo perché ritengo Vincenzo uno dei migliori allenatori che ci siano in circolazione. Però l'anno scorso non dimentichiamoci che molti giocatori erano una scommessa e quindi hanno fatto forze a livello di motivazioni e le motivazioni sono essenziali nel calcio, hanno fatto molto di più di quello che anche era preventivato di fare. Quest'anno c'è da riconfermarsi. Abbiamo avuto il problema di Pizzarro, torna, non torna, rimane, non rimane, poi rimane, poi si sfoga, cosa. Ma io credo abbiamo il problema di Liai, abbiamo il problema del portiere. E' vero che abbiamo preso dei giocatori abbastanza importanti, ma devono giocare a Firenze. Giocare a Firenze non è facile e non dimentichiamoci che la Fiorentina non ha più Liaic. Iovetic. Iovetic, scusatemi. Lapsus freudiano perché Liaic è in procinto di andare, quindi non è che mi sia sbagliato. Quindi se non dovesse avere neppure Liaic le cose si complicano, anche perché è vero che la Fiorentina è andata ad acquistare uno dei più forti attaccanti che ci sono in circolazione in Europa, ma un attaccante con determinate caratteristiche, dove la Fiorentina, a mio parere, ma lascio il compito a Vincenzo Montella, dovrà cambiare un pochino il tipo di gioco. Struttura fisica importante, finalizzatore, buon colpitore di testa, ma ci vogliono le palle dal fondo, bisogna servirlo, bisogna andare a cercare la profondità e lì bisogna trovare le metodologie, ci vorrà del tempo, ci vorranno gli uomini adatti. Mi domando, ma Quadrato sarà l'esterno adatto per poi servire Gomez? Quadrato, da quello che ho potuto osservare, per conto mio, un grande acquisto, un grande giocatore, è un pochino uno che entra un pochino spesso dentro il campo, non è la famosa alla paura che va in fondo alla mette, forse Joachim potrebbe essere adatto alla bisogna, però non dimentichiamoci che non ci abbiamo più Jovetic, e Jovetic ragazzi è un campione, ha fatto gol, ha fatto assist, cambiava le partite e quindi non è che dobbiamo prendere... L'ultimano un po' meno, però comunque sì... L'ultimano veniva da un infortunio, problemi, c'era già nell'area che si dovessero andare via, insomma le cose bisogna cercare di prepararle in maniera adeguata. Io dico che dobbiamo andarci con i piedi di piombo, vediamo tanto di risolvere la grana del portiere che mi sembra non importante... Sorrentino potrebbe essere l'uomo giusto? Ma Sorrentino sembrava l'uomo giusto anche andando a Palermo, poi Palermo è retrocesso, io quando si retrocede, cioè quando uno retrocede cerco di starci sempre abbastanza lontano, ma stiamo giocando, stiamo scherzando, ma poi Arlecchino scherzando scherzando diceva la verità, bisogna stare attenti, è chiaro che un portiere affidabile su cui la Fiorentina può costruire il suo futuro, purtroppo Neto è la famosa sciambella che non è riuscita con il buco, doveva essere il portiere fenomeno, l'abbiamo comprato quando sembra 3 milioni di euro, portato nel momento in cui avevamo anche un buon portiere, Boruc e Frey, ma soprattutto Frey che poi abbiamo lasciato andare al Genova, mi sembra in modo un po' troppo frettoloso, portiere ricordiamoci che è un ruolo non importante, di più.